Mi è stato confermato che alcune attività commerciali non apriranno anche quando sarà consentito, perché per esempio per i bar, per i ristoranti non si trovano più camerieri, per le attività stagionali non si trova più personale. Già lo scorso anno per gli stagionali nell'industria conserviera, nell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, non si trovavano stagionali. E' uno dei risultati paradossali dell'introduzione del reddito di cittadinanza. Se tu mi dai 700 euro al mese e poi io mi vado a fare qualche doppio lavoro, non ho interesse ad alzarmi la mattina alle 6 e andare a lavorare in un'industria di trasformazione agricola. A volte c'è gente che prende il reddito di cittadinanza e va a fare il lavoro in nero per non perdere il reddito di cittadinanza. Cioè si sono create delle anomalie, degli imbrogli, come sempre in Italia, che finiscono per danneggiare l'economia del nostro Paese. Noi abbiamo il dovere di garantire un reddito alla povera gente, a chi non ce la fa, a chi ma dobbiamo garantire il reddito familiare e dobbiamo evitare il paradosso di arrivare poi al punto di non avere più lavoratori stagionali. E' incredibile, ma la situazione è questa.